Ciao a tutti e benvenuti, qui Mr. Jason e oggi sono su Counter-Strike Club Offensive con ZeroStube Salve a tutti E oggi vogliamo fare una app cooperativa, abbastanza corta ma molto divertente da quello che mi hanno detto E qui, da qui ho preso uno zipline quindi devo venire qua Io invece sono... Oddio! C'è fatto, c'è fatto Che figata però Tutta rallenty, cos'è? Ti apro? Vabbè Oh mio dio Qualche altra, eccola, poi... Eccolo qui! La porta è bloccata Cos'è questo? Ok Eccola C'è il condottore Vai tu Ok Ok ci sono Vediamo Posso salire o... Oh, aspetta c'è un cagone qua Ah! Dio Oddio Aspetta adesso ti apro la porta se si può Oh, son salito Ti hai salito? Si, son so C'è tutto il sangue sulla porta Oddio Non ci vedo più E' stato tu? No, no Oh mio dio Dov'è? Va a cagare Ok, mi sono fatto male Serio? Oddio C'è la fumogna 27 Dov'è la porta? Eh, che ti fa qua? Di qua, di qua Ci stavo guardando il cestino qui Oddio Ti giuro, non ho fumato Te lo giuro Dai, andiamo Allora Oh Oh C'è c'è? Granato Dissurro Oh Dio Morto, morto Oh, bella Oh, mi sono qualcosa sulla porta Rallenti, garanti Eh, stai attento Che cosa sta facendo Con questo sangue? Oddio tanto Entriamo, entriamo Oh Oh, vabbiamo a vedere C'è un osso Aspetta, c'è una granata Oddio No Non so io Mi dispiace Morto Mi dispiace per te No No, ma Che morte di me Merda Vado avanti Vai, vai Allora Ok Dove sei? Sul tetto, sì Sì Che cavolo è? Aspettate, è un elicottero qualcosa Ma così corta è la mappa? Ah no, no, no Guarda, guarda Devi mettere qualcosa di sotto C'hanno la forma dell'esplosivo Sì Sì Vai Oddio Ups Non dimuoverà lenti Oddio 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 no No In testa No Noi continuiamo Sì, sì, continuiamo Continuiamo Non ci credo Forse non sarà così corta come mi hanno detto Sta mappa boh ma hanno massacrato non immaginavo oh sono in prigione io sul tetto ok stavo partendo senza armi allora mi prendo a caso questa poi va bene così vado oddio dai vai via no 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 non so sparare cos'è sta mira oddio sei fatta? si aiutami come? è qua sulla destra cioè sulla tua sinistra c'è un bottone qua grazie ma quella grata? cosa? quella? boh oddio non ci credo ci vai te o ci vado io? dai facci te vabbè si può fare anche così si o ti serve una mano? no no io rimango qui a vedere un po' le armi 90 non riesco a salire ecco perfetto c'è una pistola pistola? oi oh sono qui oddio sei venuto da su? no vai andare a me stavolta quindi tipo ok vai attento al cagone eh quello ti spara dal condotto ti spara quello c'è un cagone? eh sì c'è un cagone lì sta attento ore oddio non mi vede non mi vede non mi vede no non posso vedervi oh oddio mi stavo tirando tipo di chi è stato? oddio ok oh mi curo perfetto qui c'è un'altra pistola oddio che stai facendo? eh no niente ho sparato una pistola aiutami ad uscire ah non dovevo sparare su ah aspetta qui c'è il oh eccolo no non ci vedo più ho ucciso ok grazie ma qui che c'è la security? non c'è di niente sono i vetri sparati va qui c'è oh oh la la poster ok mettiamo la bomba oh io c'è la granata la lancio eh oh il basaur io ce l'ho il basaur sì dove è passato? cos'è lo scioglio a te oddio non l'ha fatto niente no no la bomba no mi stai trovando oddio scappa non ci credo mi credo molto oh ho preso ce l'ho un'altra aspetta cosa sta facendo? cosa sta facendo? di serio? non muovi oddio ah qui c'è la c'è l'altro stronzo che mi ha ucciso c'è una granata? sì c'è una granata qui anch'io oh andiamo dai oh sangue oh sangue guarda le sue espressioni scomparso scomparso oddio è un'espressione tipo che qui non c'era niente manco un elicottero purtroppo dobbiamo fare la scena al rambo tipo allora ok vai vai oh va così in mezzo ok perfetto tu dietro io qua dove dove? oh vai pistola pistola no 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 non l'ammazzo non l'ammazzo è morto AK ha fatto un lavoro ha fatto un lavoro credo lo spero anche c'è qualcosa che aspetta vabbè non ci credo finiteremo inizioni cosa abbiamo fatto? c'è una sorta qui sono degli stage oddio oddio no si continua si guarda prendi gli stage c'è ma un tempo? no c'è la musicata di quando c'è il tempo tipo io lascio una granata granata per sicurezza chi fai quel poverone? ok guarda come l'hai preso aspetta va a vedere oddio aspetta guarda non ci credo andiamo oddio c'è un tipo qua non morire ci trepo qua vado io morto 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 c'è una K piena di munizioni perfetto attento va attento nessuno si ma una torcia magari no infatti voglio fare qua ah non è che stai trasportando un ostaggio ha lasciato il CZ no per lo stanno come si lascia guarda c'è una torcia qui ok mi sa proprio prendo la stacca mi piace di più quella K ci può aprire qua? vieni un altro di nuovo qui arrivo armadietti spieghiamo tutto quanto ah qui no ho premuto per ripetere il cancello si è niente non funziona l'ho lasciato come hai fatto? no lo stagio ce l'hai ancora dietro era tutto nero qui no aspetta vediamo facciamo un giro indietro vediamo se c'è qualche cosa che ci siamo dimenticati boh possibile salva schioppa no se li schioppa proprio con lo sparo io non so direi di tornare indietro magari si proviamo dai c'è davvero un elicottero stavolta sopra o sotto? eh prendiamo sotto mi raccomando 7 oh scensore chi che ha urlato? che cavolo allora l'ascensore non si apre vediamo un po' non ho la minima idea di come oh aspetta anche un altro conno qui si va si torna indietro no niente lo otterriamo il terzo non si apre ma ah no si si apre ecco si l'ho trovato andiamo avanti ok cosa si farà mai qui oddio santo quanto sei sexy con quello stagio dietro pure tu guarda oddio dietro di te dietro di te c'è una grata guarda ci può uscire? oh 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 sto calmo voglio saltare in aria ah quella è la molotov una bomba cos'è? son caduto no non si può aspetta oddio mi stai bloccando l'ho presa l'ho preso ho preso la molotov blow oh blowtorch blowtorch si secondo me questa serve a fare luce aspetta qui c'è bordello qui eh ah dove eh vai 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 non si va a cacca nessuno armi armeria madonna che essenteria sarebbero state per quello che sta in prigione mi sa ah orari si mi sto comprendo di tutto poi eh adesso è caputo ok ci sono adesso c'è qualche chiave qualcosa no oddio lunedì eh secondo me questa come si chiama la blowtorch blowtorch sì serve per andare per fare luce dici ah proviamo un po' vediamo niente c'ho il taser vediamo che luce sia ah sì prova niente non funziona oddio te la faccio io la luce guarda oddio mi sono flashato tesoro no prendiamo la molotov vediamo se si vede qualcosa lì è impossibile ma perché c'ha dato la infatti andiamo sul tetto non ha senso andiamo sul tetto magari ci viene a prendere un elicottero magari è tipo uno di oh una grata qui niente non si apre l'altra eh non si apre strana stamattina andata lì non si apre eh che cavolo sostarci poi infatti vorrei non si apre non si apre non si apre ok io non mi butto di sicuro giù perché eh non si può ah no qua dici oddio ci spacchiamo no aspetta forse oh buona bello ce la faccio anch'io oh adesso voglio provare a prendere forse qui forse qui dove eh eh ho già provato ma non si apre oddio sei un genio oh oh come hai fatto ah ti devi premere con me attento attento apro eh apri aspetta granite out ok non c'è nessuna ok apro eh vai oh gli staggi oddio guarda sulla sinistra che bella texture oddio si cade si cade si cade bellissima vediamo oh dobbiamo aprire una porta qua guarda no ma c'è la luce il contene mettiamoli dentro il contene throwing smoke cosa che stai facendo non lo so guarda non c'è la luce aspetta negalibio guarda apposta per loro ma è probabile che oddio santo è probabile che la mappa non non è finita ancora tipo non è 100% lo so può essere no perché secondo me qui c'è il punto di estrazione vai lì famo proviamo a fare una cosa prova a saltare ah non a saltare vai oh ok sono niente qualcosa no impossibile no non so ho la mappa ancora non è finita oh oh è la blotters per cosa l'hai presa appunto forse per spaccare questa porta impossibile no non penso quando c'entra la moto con la porta oppure io mi chiedo chi c'era qui dentro ma hai sentito lo scaggio ah sì infatti no no che cos'è questa macchia cosa è questa cosa verde questa cosa verde dov'è ah è è un bug grafico di quando spari alle porte così c'è sego ascensore no ritorno chi c'era chi c'era chi d'occhi dalla finestra oh oddio sono morto no oddio sono morto oltre gli ostaggi di per terra salvalo dove vai ah forse devi fare no cos'è che trasportano lì missili dove lì oddio vabbè senti ostaggio schifoso perchè non lo posso buttare qui e scappare senza di te vediamo l'ultimo giro faccio secondo me non è ancora finita la mappa molto probabile perchè è possibile che ti lasciano metà mappa così ah infatti manco dire che ci ha messo dei rifetti o non so dei prop che coprano quello schifo no è tutto ma scappa si boh può ritornare e poi mi chiedo sta stanza sta sto posto cosa serve può essere inutile infatti oh c'è un scappolo no magari c'è anche un interruttore in giro e non lo vediamo noi è tutto buio qua non lo so veramente perchè è stato morto appunto la finestra è l'unica via d'uscita vabbè sentite visto che l'ostaggio comunque è salvo ormai penso che mi farò un giro anch'io su quella giostra quindi niente addio odio in aria guardalo è ingirocchiato in aria oh mio dio mi sa che la mappa finisce qui no? si si adesso penso che è così a parte che siamo morti non penso di volerla rifare infatti quindi diciamo che il video finisce qui e niente eh si non mi aspettavo un finale così brutto ma vabbè un finale non finito infatti non va bene forse un giorno comunque grazie per la visualizzazione ragazzi e ci becchiamo al prossimo video ciao